Stefano mi ha fatto cambiare idea. Prima avevo un sacco di azioni, oro, jigs e non so neanche io cos'altro. Credetemi, non c'è altro investimento in giro capace di rendere tanto quanto il bitcoin. Col sistema messo a punto da Stefano ho guadagnato 784.832,77 euro in poco più di due mesi. Per fare tutto questo mi è bastato investire 250 euro, spiccioli in confronto a queste cifre. Fra 30 giorni diventerò milionario per la prima volta in vita mia.